Per uscire il rullo di pepe, uscire il spruzzo sul fronte del imprentero. Uscire i spruzzati, slidendole alla right. Il rullo di pepe è qui. Uscire il spruzzo. Ora puoi rimuovere il rullo di pepe. Il rullo di pepe con un soft cloth e un'acqua o un'alcol. Se vuoi cambiare, uscire i spruzzati dai supporti. Ora puoi rimuovere i spruzzati, uscire i spruzzati, uscire i spruzzati, uscire i spruzzati. installare i spruzzati. Installare i spruzzati. Reinserterare il spruzzato e il lavoro è fatto. Grazie a tutti.